Soveria Mannelli ovvero un paese dell'ottentozia. A malincuore mi strappo allo spettacolo. Proseguo verso Tiriolo, giro dietro di esso penetrando nella cupa valle che gli sta alle spalle. Valle scura, tutta a boschi, dominata dalle case e dalla rocca di Tiriolo che sembrano reggersi per miracolo sui dilupi cadenti a piombo. La strada salsa continuamente, il fiume serpeggia nel profondo, a qualche centinaio di metri più sotto. Racconti paurosi di Briganti vengono in mente in quel paesaggio che ne fu un tempo classica cornice. Qui ebbero nido inespugnabile capi di fama terribile. Oggi ne restano solo le tradizioni. Ragazze che tornano dal lavoro mi salutano francamente. I lavoratori fermano le zappe e mi stanno a guardare e sempre mi apostrofano con un inesprimibile garbuglio di suoni che vuol dire dove vieni? Dove vai? Nessuno è mai armato, né qui né altrove in Calabria. Tocco gli 800 metri, poi i 900, poi scendo a 700 e risalgo a 800. Salute! Finalmente all'imbrunire sono a Soveria Mannelli. All'entrata del paese, posto su un altipiano che mi ricorda quello di San Marcello Pistoiese, vedo una persona a modo, salto di macchina e gli chiedo come si mangia e si dorme a Soveria. Ma signore, di regola qui non si mangia né si dorme perché non ci sono osterie neppure di infimo ordine. Allora dunque, dico con tono lamentevole da contugolino, rimarrò qui morto cadavere poiché se oggi i chilometri che ho fatti sono solo 120, le salite passano i 2000 metri. Ebbene, vediamo se posso tenervi in vita, mi risponde sorridendo quel signore. Un colonnello dei carabinieri in ritiro, andato lassù perché sua moglie è di Soveria e a furia di cercare mi trova un angolo per le ossa e una tavola per lo stomaco. Per le ossa sta anche ecco l'albergo. Entro in un androne scavato nella roccia, sfogo di acque piovane e di altre derrate, passo in un cortiletto, o l'etamaio che sia, salgo otto gradini senza parapetto ed eccomi sopra un pianerotto l'angusto dove siamo ammucchiati io, la bicicletta, due vecchie streghe, un maiale irsuto, dei ragazzi sbrandellati. Di qui passo in uno stanzone che serve a tutta la famiglia da dormitorio e montando con una scaletta attraverso la botola in un solaio sotto le pietre del letto dove dormirò. Meno male, non c'è già ciglio, lo faranno apposta e sarà più pulito. Quanto al cibo mi allogo presso un enciclopedico venditore di ogni sorta di cose, tranne che di cibaria. Carne non ne ha perché dice è venerdì. Ma di che cosa non è capace un ciclista affamato? La carne l'ho io. È in mezzo pollo avanzato mio Monteleone e che a quest'ora, con tanto sole preso, sarà meglio cotto. Intanto che mi cuociono della pasta con cacio pecorino, io mi preparo una splendida maionese per la quale non sono solito vantarmi di cose da poco. Sono un vero specialista. Pasta, pollo alla maionese, ova cucinate con la cacio cavallo, ecco il mio luculliano banchetto. Lo divorai in un bugicattolo scuro, con un'unica finestrella senza impannata, aperta proprio nella schiena. Ha un tavolino sgangherato, quasi un desco di calzolaio, illuminato da una fumosa lampada d'olio, tra due mucchi di sacchi di grano, sui quali, spavento continuo per me, erano arrampicati e saltavano tre gatti famelici. Ma che dico tre gatti? Erano tre giaguari furiosi, mezzo spelati, digiuni da chissà quanto, con occhi vitri e sinistri, gli adunchi artigli sempre sfoderati, agili e minacciosi, che a stento tenevo lontano con vigorosi colpi. Grazie.